Marco, come stai oggi? Bene Sì sì, sto... No, bene Tranquilla E allora perché la tua spalla destra è così alzata? Respiraci dentro Brava Non ce la faccio più Non ce la faccio più, sto aspettando come una cretina Questa telefonata, sono sette mesi che sto aspettando questa telefonata Niente, 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 non... Come se io non avessi nessun... Nessun valore Molto bene E voi? Come state? Avete respirato nel corpo oggi? Avete ascoltato? Il corpo Non mente mai Di Geoff No Pele Sì Grazie.